E sulla scia dell'appello del capo dello Stato alla responsabilità prosegue dopo il voto in lavoro alla inserita di una maniera che tiene conto di nuovi modelli familiari ai quali riconoscire i dettagli. Anche questo Parlamento ci riprova con il disegno di legge civile. Il numero di vittime del lavoro nel 2017, il premio alla nascita, il bono si mette nel 2018, il quale quasi un giovane su due continua a vedere l'estero, come un operato preceduto da una rissa che si era verificata poco prima in discoteca, la guamera raccolta, il velo integrale al casco da motocicliste a guamera. Le mura domestiche sono ancora una volta il luogo di una tremenda storia di maltrattamenti della donna, come nella media italiana, conviene alla mamma più che al papà lasciare il lavoro nel momento in cui si diventa genitore. L'analisi di assite che è stata svolta soltanto sulle aziende private del paese, ma il tempo è scaduto, ora si cambia. Per quanto riguarda l'Ira, non c'è un'abolizione, ma c'è un alleggerimento che va a vantaggio solo dalle grandi imprese. Tra i dieci punti, oltre alla richiesta di pensioni più adeguate e dignitose, figurano fondamentale anche per la terza età, turismo solidale per gli ultra 60-50. Grazie per la visione! 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 e i i i i i i i Grazie a tutti. Grazie a tutti.